Riprende la repressione del regime iraniano sulle donne perché indossino il velo, le autorità hanno annunciato ritorno nelle strade del paese e della polizia morale. I controlli porteranno fino all'arresto per le donne che non indossano il velo in modo corretto, una decisione che sarebbe stata presa a seguito di richieste da parte della popolazione e delle istituzioni per rafforzare le fondamenta della famiglia. Uno stop alla polizia morale era venuto a seguito dei mesi di proteste per la morte lo scorso mese di settembre di Masha Amini, arrestata perché indossava in modo non corretto il velo.